ben ritornati ragazzi su ft s 2015 siamo ritornati la nostra modalità manager pronti per giocare il trofeo di club europeo contro la lazio andiamo subito in campo a vedere abbiamo un giocatore praticamente rotto andiamo subito a cambiare facciamo il cambio con balsano bravo poi abbiamo fatto ritorniamo indietro e andiamo in campo trofeo di club europeo fase 3 contro la lazio ci vediamo in campo fischio d'inizio andiamo subito a giocare contro la lazio che si vuole fare subito minasciose nei primi minuti della partita passaglio lungo efficace e andiamo subito in rete bellissimo gol del joa fatto tutto da solo ed è 1 a 0 per il cagliari contro la lazio che dobbiamo valla l'azio che si chiude le porte in faccia non riusciamo a tirare via la palla parecchio pesantissimo un parecchio pesantissimo ragazzi della lazio ci vediamo subito in vantaglio palla fuori mamma maria opportunità è sprecata ancora oh madonna ancora riusciamo a recuperare palla ancora ruviamo palla portiere della lazio che riesce a parare fallo e fallo al 45esimo minuto fallo per il joa cerchiamo di un rigore calciato alla perfezione torniamo in vantaggio e alla fine del primo tempo alla fine del primo tempo vede il cagliari che vince 2 a 1 contro la lazio iniziamo subito il secondo tempo il giocatore di calciato alla perfezione chiudere la partita lasciamo a tirare via la palla lasciamo a tirare via la palla la lazio che la recupera di nuovo pure un fallo colombi da solo palla sulla traversa palla sulla traversa bene il gioco recupera la palla senza l'appoglio dei compagni ancora il gioco 1-1-1 contro il portiere ma calcia fuori il gioco lui che cerca di completare la sua doppietta personale la partita odierna ancora un joa che recupera la palla scatto pazzesco lazio che riesce a mandare via la palla tutto fatto molto bene andiamo subito a fare un cambiamento andiamo in campo a dal e pisano due giocatori freschi per il Cagliari gioca con la palla sui piedi riesce a recuperare ok 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 la parata del nostro portiere a due minuti di recupero che errore abbiamo fatto e che la che ? che ? che 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 Allì, bravo. Ed è finita ragazzi 2 a 1 la partita del Cagliari contro la Lazio. Ci vedremo alla prossima partita sempre su CaprioloGamer89. Ricordatevi che ci vedremo sempre in campo. Ciao!